Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con il sito BBcraft. Questo tutorial di perline sarà strutturato in modo diverso dagli altri tutorial, ho deciso di sviluppare un design in più video. Questo perché mi rendo conto in primis che i miei tutorial sono lunghissimi con diverse tecniche, un esempio il mio pendente è il flower twist che poi è l'ultimo tutorial caricato sul canale. Se vi siete persi il tutorial ve lo linko qui nella i di informazione. Per realizzare questo design vi ho spiegato tre tecniche diverse, il raw, il netted e l'herinbone. Ho ricevuto un commento da parte di Robby, che saluto, ciao Roberta, che mi ha scritto che è meraviglioso ma complicato. Quindi siccome negli anni non è la prima volta che ricevo un commento del genere, cioè dei commenti simili, io vi ringrazio ovviamente per tutti i commenti che ricevo ogni giorno, ma ho deciso di provare a strutturare almeno questo video in modo diverso, in più step, in più video. In modo da rendere il design facile e anche fruibile anche a chi inizia a perlinare da un sol giorno. Io spero che questa idea sia di vostro gradimento, fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti. In questo primissimo video andremo a realizzare insieme un'incassonatura al peyote di queste bellissime gocce in pietra dura. Queste gocce le ho prese dal sito di Bibicraft, questo è il codice, misurano 25 x 18 per uno spessore di 6 mm e sono stupende. Sono 15 gocce, tutte bellissime, ed eccole qua. Poi vi lascio ovviamente il link in descrizione di questo articolo e le andremo a incastonare, come dicevo prima, con la tecnica del peyote, con delle delica 11.0 che troverete sempre appunto sul sito di Bibicraft e con delle rocaille 15.0 sempre della Miyuki. Io vi lascio il tutorial, non vi anticipo quale sarà il design finale, questo lo scoprirete ovviamente guardando tutti i video. Un bacio e buona visione. Ciao! Primo passaggio, vado ad incastonare la goccia che misura appunto 25 x 18 mm. La vado ad incastonare con la tecnica del peyote, quindi ho inserito sull'ago e sul filo 54 delica 11.0, adesso ripasso in tutte le perline andando in direzione opposta, chiudo la lavorazione a cerchio ed effettuo due nodini. Questo è il risultato. Adesso inserite sul vostro ago una delica, io fuoriesco da questo punto, salto la delica che viene subito dopo e mi rinfilo appunto nella terza. Vado avanti lavorando al peyote per tutto il giro, quindi di nuovo una delica, salto una delica di base e rientro nella delica che viene subito dopo. Vedete? In questo modo. vado avanti con questa lavorazione. Ho inserito 26 delica sul mio lavoro. Vado ad inserire anche l'ultima delica, come vedete il mio filo fuoriesce da questa delica qui, salto una della base e mi rinfilo nell'ultima delica e mi rinfilo anche nella prima delica inserita di questo giro, quindi rivado in queste due delica. Adesso per continuare la lavorazione inserite una 15.0 sul vostro ago e rientro nella delica sporgente. Vado a riempire tutti questi spazietti qui vacanti, quindi di nuovo una 15 e rivado nella delica, di nuovo una 15 e rivado nella delica. Effetto questo passaggio fino alla fine del giro. Ovviamente l'ultima 15.0 va apposta in questo punto qui e andrò ad inserire l'ago sia nella delica e sia nella prima 15.0 inserita di questo giro, in modo da poter continuare la lavorazione. Questo è il risultato, vedete fuoriesco appunto dalla prima rocaille 15.0 di questo giro. Inserite una rocaille 15.0 sul vostro ago, vedete il filo fuoriesce da questa, da questa qui che sto indicando appunto con l'ago, rientro in questa penultima e anche da quella da dove fuoriesce appunto il mio filo, rientro in queste due ultime rocaille 15.0. In questo modo vado a creare la punta della nostra goccia, vedete? In questo modo. E adesso continuo ad inserire esattamente in questi spazietti equivocanti una 15.0. Quindi una 15.0 e rientro nella 15.0 che viene subito dopo, di nuovo una 15 e rientro nella 15 che viene subito dopo, tiro sempre per bene il filo e procedo così fino alla fine del giro. Questo è il lavoro. Come si presenta adesso ho inserito appunto tutte le 15.0. L'ultima 15.0 inserita è questa qui, questa che vi sto indicando appunto con l'ago e sono ripassata in questa 15.0, in questo accanto e anche nella seconda 15.0 inserita di quest'ultimo giro, perché appunto la prima è questa qui che forma la punta, quindi nella seconda rocaille 15.0. Adesso vado nuovamente a fare un altro giro di rocaille 15.0, quindi sempre una 15 e rientro nella 15 quella sporgente, questa qui. Vado avanti sempre con questa lavorazione fino alla fine del giro, l'ultima rocaille 15.0 vado ad inserirla in questo spazio qui e andrò ad inserire l'ago sia nell'ultima perlina di questo giro e poi in questa della punta, cioè andrò ad inserire l'ago in queste due, in queste due rocaille 15.0. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Questo è il risultato, questo è come si presenta l'incastonatura sul lato davanti. Vi mostro l'incastonatura. Adesso come vedete ho inserito appunto l'ultima rocaille 15.0 che è questa qui, mi sono rinfilata in queste due ultime rocaille 15.0, quelle che vi dicevo prima e poi sono ripassata all'interno della lavorazione a zig zag per fuoriuscire appunto dalla delica sporgente posta sul retro della lavorazione, ciò in questa qui. Sono ripassata un po' all'interno delle perline sempre seguendo la lavorazione. Adesso andiamo a guardare all'interno la goccia per vedere appunto se è perfetta. Sì, l'incastonatura sul davanti è perfetta per la nostra goccia ma come vedete sul retro c'è ancora qualche millimetro della goccia che non è del tutto coperta. Invece di andare a realizzare un altro giro di delica opto per altri giri di rocaille ovviamente sempre 15.0. Quindi vado ad inserire una 15.0 sul mio ago ed eccola qua e rivado sempre nella delica sporgente che viene sempre subito dopo. Vado ad effettuare questo giro di 15.0 tenendo sempre conto ovviamente dell'ultima rocaille 15.0 che vado ad inserire, cioè questa qui. Vado ad inserire l'ago sia nella delica e sia nella prima rocaille 15.0 di questo giro per continuare ovviamente la lavorazione. Questo è il risultato, ho inserito tutte le rocaille 15.0. Il mio filo fuoriesce esattamente dalla prima rocaille 15.0 inserita di questo giro. Adesso procedo sempre con una nuova 15.0 e rientro nella 15.0 che viene subito dopo. faccio questo passaggio fino ad arrivare appunto qui alla punta, qui in alto. Arrivo a questo punto e vi mostro il passaggio da effettuare. Ed ecco qua, vado ad inserire l'ultima rocaille e poi mi ritrovo esattamente nella punta dell'incastonatura. Basta guardare appunto sul retro. Inserisco l'ultima 15.0 e rientro in queste due rocaille 15.0. nuovamente una 15.0 e rientro in queste due ultime rocaille 15.0 andando in direzione opposta per creare ovviamente la punta anche sul retro della nostra incastonatura. Ed eccola qua. Adesso non ci resta che inserire le ultime 15.0 in questi spazietti qui vacanti. L'ultima 15.0 vado ad inserire l'ago sia in questa e sia nella prima inserita di questo giro. In queste due. Questo è il risultato. Ho inserito le ultime 15.0 e questo è come si presenta l'incassonatura al momento. Adesso inseriamo all'interno la goccia, la goccia in pietra ed eccola qua e il bordo è perfetto. Ed eccola qui. Adesso devo chiudere soltanto il retro della mia incastonatura. Ovviamente sempre con le 15.0. Quindi vado a realizzare altri due giri di rocaille 15.0 sempre utilizzando la tecnica del peyote. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Questa è come si presenta la lavorazione al momento. Ho realizzato solo un solo giro di rocaille 15.0. Un piccolo appunto. Quando ho inserito questa rocaille 15.0 qui, posta poi vicino, in prossimità della punta, sono ripassata in questa 15, in questa perlina rocaille 15.0 della punta e di nuovo in questa 15 per andare ad inserire nuovamente altre 15.0 anche dall'altro lato. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille 15.0 e ovviamente vado a realizzare un altro giro di rocaille 15.0 e vi mostro il risultato. Ovviamente sto realizzando più giri di rocaille 15.0 sul retro perché la mia pietra è spessa 6 mm e quindi necessita di più giri per chiudere l'incastonatore sul retro. Questo però va in base, varia, in base appunto allo spessore della vostra pietra, del vostro capochon. Quindi quello che vi posso consigliare è di inserire la pietra all'interno e di proseguire step by step. Quindi adesso vado a realizzare un altro giro di rocaille 15.0 e vi mostro il risultato. Sto realizzando il secondo giro di rocaille 15.0 e in prossimità della punta vado ad inserire una delica. Io fuoriesco appunto da questa rocaille qui, inserite la delica e rientro in questa rocaille qui sporgente dell'altro lato. In questo modo tiro bene il filo e poi continuo ad inserire le rocaille 15.0. Ed ecco qui il risultato. Trovo che sia perfetto, l'incastonatura sembra proprio un guanto, aderisce al nostro capochon sia davanti che sul retro e la pietra è ben salda all'interno dell'incastonatura. Adesso l'ultimo passaggio da effettuare è il ripasso zigzag in tutta la lavorazione in questo ultimo giro per bloccare e tagliare il filo in eccesso. Ed ecco qui l'incastonatura terminata. Ve la mostro in tutti i lati, questo è il retro. E prossimamente vi mostrerò cosa andrò a realizzare con questa incastonatura. Quindi attivate la campanella, restate sintonizzati sul canale, così andremo a realizzare passo passo il nostro progettino. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!